Signori, siamo nel mese di febbraio e signori ho un quiz adatto per questo mese. Signori, siamo pronti per fare due quiz sulla UEFA Champions League. Ragazzi, è veramente qualcosa di incredibile fare questo quiz, sto affando il tutto. Ma comunque, allora ragazzi, sappiate che ritorno dopo non aver fatto video per una settimana. L'ultima volta che mi avete visto su questo canale è stata una live per il compleanno, il 15 febbraio. Però signori, siamo ritornati con un altro video a tema Champions. Quindi signori, iniziamo. Allora, sicuramente il Real Madrid ci deve assolutamente essere come l'Atletico. Atletico. Atletico Madrid. Ecco qua, però il Barcellona, vabbò, in realtà è molto... Allora, voglio andare a indovinare alcune nazioni, diciamo, un po' piccole. Il Maccabi Haifa sicuramente ci dovrebbe essere. Maccabi Haifa, ecco qua, ha partecipato tre volte alla Champions League, sconfiggendo anche la Juventus. Allora, indoviniamo le nazioni piccole, diciamo. L'Ucraina, il Kiev. Il Kiev assolutamente no. Non c'è il Kiev. Allora, lo Zagabria... No, il Zagabria non c'è. Allora non lo so, rimaniamo su quelli grandi, per favore. Allora, il Mallorca c'è stato in Champions League. Cioè, noi volevo dire il Malaga, il Malaga volevo dire... Popopopopopo. Che, che poi fece proprio... Dopo essere andato... Tipo erano i quarti. Fino a dove essere andato i quarti c'è il più Sligo contro il Borussia cadette. E tra parentesi, mettiamo anche il Borussia a sto punto, visto che l'ho finato. Borussia Dortmund. Ecco qua. Però non è il miglior team in Germania, perché il numero uno è il Bayern Monaco. Allora, la Juventus va boh. Sicuramente ci avrà partecipato un sacco di volte, insieme al Milan, all'Inter. La Sampdoria ci è andato un paio di volte. Sampdoria. No, la Sampdoria non c'è mai stata. La Roma c'è stata in Champions League. Undici volte. Ok, va bene. Allora, il Basilea c'è stato in Champions League, visto che sto vedendo la Svizzera. Basilea, non me lo dà il Basilea. Ok, va bene. Allora, l'altra opzione sono gli Young Boys. Ok. Lo Zurigo. No, non c'è lo Zurigo. Ok. Della Turchia c'è il Galatasaray, però. Galatasaray. Ok, va bene. Belgio il Brugge. Però devo scrivere prima... Però non me lo dà... Mettendo me lo corto. Ok. No, è stato superato di uno da un altro club. Però il club Brugge è il numero uno, quindi non si sa. Del Portogallo. Lo Sporting. Ok. Il Porto. E' il Benfica. Ok. Bene. Dell'Italia mi rimangono un bel po' di club, tipo... Quello è un club... Mi vengono solo questi quattro club, mi spiace. Il Napoli. Il Napoli c'è stato in Champions League. Sette volte. E alla settima potrebbe... Sono molto favoriti a vincere. Allora, il PSG c'è stato, insieme a Lille. No, è Lille. Il Lyon. Il Lyon c'è stato in Champions League, sì. Il Marseille. Vabbè, il Marseille c'è stato in Champions League, facilmente. Ok, bene. Poi, Inghilterra. Lo United. Vabbè, indoviniamo i soliti club come United. Me lo dai corto? Ok, me lo dà corto. Tra l'altro non è... Tra l'altro non ho... Ho messo... Mi sembra... Ho messo anche uno spazio. Sono io... Non lo so. Mi sa che ho l'Olympiakos, visto che ho visto la Grecia. Ok. Il Pauk c'è stato... No, non c'è mai stato il Pauk in Champions League. La Poel. La Poel c'è stato in Champions League. Ok. La Poel è il club numero uno in Cipro. Ok, va bene. La Poel di Nicosia. Proprio lui. Dell'Austria il Wolfsburg. Il Wolfsburg... Stefano, il Wolfsburg non è austriaco. Però è stato... È stato tre volte in Champions League. Ok, bene. Lo Zenit. Effettivamente lo Zenit c'è stato in Champions League. Non è il club... Allora, qual è il club? Non lo so. Poi il City. Vabbè, tipo la versione corta. Man City. Ecco qua. Poi il Liverpool. Vabbè, il Liverpool. Ovviamente. No. Allora, qual è? Il Wolverhampton, visto che è stato tipo in una delle primissime... Primissime finale di Champions League. No, non è il Wolverhampton. La Fiorentina. Come cacchio faccio a scordarmi della Fiorentina? Che però ha fatto solamente tre apparizioni in Champions League. Quindi... Ecco. Cioè, non è inutile, però è inutile. La Lazio ha fatto apparizioni in Champions League. Ok. Bene. Sì. È fatto apparizioni in Champions League. La Lazio. La Romania. Il Bucarest. Lo Steau Bucarest. Ma tu lo devo scrivere bene, però. Steau... Ok. Mi ha dato solamente Steaua. Poi il resto lo stiamo anche... Lo stiamo anche a schipparlo. Della Finlandia, allora, il Ferenkvaros sicuramente c'è stato in Champions League, infatti. La Finlandia. L'Helsinki. Helsinki. Ok. Che è stato solamente una volta in Champions League. Rip finlandesi che non hanno il loro... Il Dinamo Zagabria c'è stato, mi sa. No, non c'è stato il Dinamo Zagabria. Il Lasbria, il Salisburgo. Allora, l'Arby Leipzig. L'Ajax. Ovviamente c'è stato in Champions League. L'Ajax. Insieme al Feje Nord. Ok. Però in realtà non c'è stato così tante volte. Il sedicesimo club che... Non lo so. Intanto scusate per aver fischiato. Vabbò. Il Malmo. Il Malmo della Svezia. No, non è il club svedese con più apparizioni in Champions League. Della... Della Danimarca, non lo so. Della... Della... Il Vittoria Pluzzen. Che fa... No, non è il Vittoria Pluzzen. Vabbè, era per... E' impire intanto Rangers. Rangers. Ok. Rangers insieme al Celtic. Ok, sono i due club. Il Copenhagen. E' il club... Nel... Come... Allora, quale... Allora, della Norvegia... Vabbò, non lo sapremo. Che 42 su 147... No, posso fare ancora di meglio Stefano. Puoi fare ancora di meglio Stefano. Allora. Della Grecia... Mi manca il... Patanikos. O come cacchio si scrive? Vabbò, non lo so come si scrive. No, non posso givappare. Perché... Perché... Forse... Perché forse... Mi verranno in mente altri club. Ad esempio, della Germania... Guardate... Vabbò, givappo. Tanto... Allora. Eh, vabbò. Allora. Cacchio, il Red Star... Che neanche vinto una Champions... Vabbò. Cacchio, l'Ajduk, Spalato e il Zagreb... Effettivamente mi doveva venire in mente. Perché ma... Perché non mi ha dato il Dinamo Kiev... Lo Shakhtar Donetsk? Vabbò. Il Tel Aviv... Potrebbe... Poteva andare... Poteva... Eh, vabbò. Queste... Vabbò. Questi due non li potevo... Non li sapevo scrivere. Non ho scritto... Vabbò, questi... Cacchio, questi qua li potevo scrivere. Anche con tutti questi club della Turchia, vabbò. Il PESVE. Eh, vabbò. Tutti sti club che mi sono scordato. Atalanta, Udinese e Parma. Che effettivamente sono stati in Champions. Vabbò, ragazzi. Sono semplicemente io... Che ad un certo punto proprio ho detto... Ho detto proprio... Tuffo proprio... In realtà... Solo io che chiudo in fretta, ok? Solo che ho... Ok. Comunque. Facciamo un altro quiz che dovrei... Che questa volta mi deve andare bene. Ovvero... UEFA Champions League Winners Starting Eleven. Allora. Iniziamo con il Milan. Che aveva D da portiere in tutte e due le finali. Ok. Difensori centrali. Maldini. Centrocampista. Pirlo. Attaccante. Pippo Inzaki. Ok. Kakà centrocampo. Però in una sola finale perché... Stem c'era in un... In un... No. Stem non c'era. Il buon Japp Stem non c'era. Allora in difesa chi c'era del Milan? Non lo so. Schippie. Passiamo oltre... Dai mi devo venire... Quale è un altro? Nesta. Alessandro Nesta. Gattuso. Ok. Il buon... Il buon Gennaro Gattuso. E chi era l'attaccante? Crespo. No. Crespo era nella finale del 2005. E hanno perso contro... Liverpool. Intanto riempiava un paio di posti in Liverpool con Gerrard. No. Owen non giocava a Liverpool. Portiere c'era a Dudek. Ok. Bene. Il resto lo so. Intanto nel... Intanto Pepe... No. Pepe non ha... Non ha vinto la Champions League con il Porto. L'ha vinta... L'ha vinta Real Madrid nel 2016. Indoviniamo anche il team del Real Madrid del 2014 allenato da Carletto Ancelotti. Allora Casillas assolutamente c'era. Infatti. Indoviniamo MSN con Messi. Suarez. Mi ha dato anche Isco. Mi sa che il suo... Mi sa che c'è... E infine Neymar. Ok. Incredibile. Wow. XD XD. Scusate se ho detto XE. Ok. Va bene. Allora. Del Bayern Monaco nel 2013 c'era Manuel Neuer. Poi avevano anche... Che avevano. Avevano... Avevano... Robben. Avevano Robben e Ribery. No Ribery non l'ho scritto bene. Ribery. Ecco qua. Müller e Boateng. Boateng. Anche in team. Boateng. Infatti. È molto meglio suo fratello. Vabbò. Sono io. Allora. Ronaldo ovviamente. Vabbò ragazzi. Ronaldo è... È proprio... È proprio un collezionatore di Champions League. Vabbò. Allora. Direi di indovinare il Real Madrid 14. Perché io me lo ricordo a memoria. Allora. Benzema. Benzema. Sì. Infatti. Benzema c'era. Gareth Bale. Ok. Che però ne ha vinte solamente due delle tre che ne ha vinte il Real Madrid. In realtà. In realtà nel 2018. Vabbò. Allora. Vinicius. Vinicius effettivamente lo sono scordato. Portiere adesso avevano Courtois. Courtois. Ok. Giorginho aveva vinto la Champions League. Kante. Rudiger. Vabbò. Non sto andando. Stefano. Dove... Che... Dove è finito l'andare in ordine? Vabbò. L'andare in ordine se n'è andato in un certo punto. Allora. Ter Stegen aveva vinto la Champions col... Col Barcellona. Di MSN. Centrocampisti iniesta. Allora. Allora. Mi sembra che Henry aveva giocato... Sì. Infatti aveva giocato... Mi sono messo... Mi sono messo... Nel Manchester United giocava a Van Der Sar come portiere in quel Manchester United. Ok. Bene. Barcellona 06. Allora. Valdez giocava ancora come portiere a quel Barcellona. Infatti. Che però non è il migliore perché il migliore è Marc-André Ter Stegen. Che altro c'era in quel Barcellona? C'era assolutamente Xavi. No. Xavi... Vabbò. Valdez è l'unico che mi viene in mente di quel Barça. Quindi Rip. 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 Pep. Allora. C'era anche Di... Allora. Di Maria. Per sbaglio ho attivato il caps. Di Maria ha giocato... Infatti. Giocava al posto. Allora. Che altro c'era? C'era Casemiro se non mi ricordo male. No. Casemiro l'ha vinto con altri team. Allora. C'era Modric. Lucone Modric. Come cacchio faccio a non venirmi in mente Alonso? Xavi Alonso? No. Xavi Alonso non giocava titolare. Ramos ha giocato titolare nella finale contro l'Atletico. segnando anche un gol tipo non mi ricordo quando. Carvajal che ha giocato tipo per tipo anni al Real Madrid. Che era la spalla di Ramos in difesa? Non lo so. Alaba? Davidone Alaba? Che però... No. Alaba in quei tempi giocava... Giocava al... E infatti ho preso Alaba come quando ho giocato al Bayern Monaco. Ok. Davis ha giocato... Ha vinto... Ok. Sì. Davis ha vinto più Champions del Paris Saint Germain. Realize. Un canadese che vince più Champions del PSG. Cioè realizzate sta cosa. Allora nel... Allora nel Liverpool quando hanno vinto la Champions giocava Alisson. Alisson. Ok. Real Madrid del 2018 che giocava con portiere Navas. Keylor Navas. Che ha portato alle loro tre Champions League di fila. Salah ha giocato in quel Liverpool. Infatti insieme a Manet e... A chi altro era? A chi altro c'era? Non lo so. Devo raggiungere... Cacchio devo raggiungere... Allora. Chi altro mi potrebbe venire in mente? Allora. Allora. Da questo... Allora. Shows. Riempiamo un paio di slot di questo Manchester United del 2008 quando vince la Champions. Rooney. Ok. Bene. Beckham. No. Beckham aveva lasciato avere il Real Madrid tipo tanto tempo fa. Adatto. Alonso l'ho preso come centro. Infatti ricordo che aveva segnato tipo il terzo gol. Mi mancano sei posti. Mi avevo... Devo venire in mente alcuni nomi. Allora. Spilicueta sicuramente avrà vinto la Champions. Infatti. Ok. Bene. Allora. Come cacchio... Allora. Mi manca un centro... Asensio. No. Allora. Rodrigo. Rodrigo. E... Vabbè. Io non lo so. Chi cacchio era. Scusa. Dai. Mi devo... Mi rimangono cinque giocatori. Allora. Che età gioca... Mi so... Vi so scordato l'inter del tripeta. Allora. La riempiamo subito. Cesar. Poi. Maicon. Eto. Eto. No. Ho sbagliato. Eto. Ecco qua che ha partecipato a tre team che hanno vinto la Champions. Sedorf effettivamente ha partecipato a un paio di team che ha vinto la Champions. Ne ha vinte due col Milan mentre era là infatti il buon Sedorf. Poi. Zanetti giocava ancora... Ragazzi. Zanetti è un uomo che è proprio... Cioè. Veramente ho giocato da terza con Zanetti? What? Vabbè. Raggiungiamo il 104 signore e signori. E lo faremo con un giocatore della Roma. No. Keita non ha... Giocava al Barcellona però Keita non ha... Non ha mai... Non è mai stato titolare. Allora. Allora. Chelsea 2012 effettivamente... Allora. Drogba ha sicuramente giocato nel 2012. Infatti. Didierone Drogba. E questo è il nostro 104esimo giocatore che mettiamo. Chi altro c'era al Chelsea del 2012? Ci sarà assolutamente check. Terry. John Terry. No. Terry non giocava. Vabbò. Almeno il 104 vabbò. Ok. Mi costa curta. Shevchenko e Ruigo. Cacchio. Intanto non ho riempito niente del... Carvaglio effettivamente poteva venire in mente. Carragher. Riese. Cacchio Ronaldinho mette... Cioè parlare... No ragazzi. Verrò ammazzato dopo questo video. Cioè. Dopo questo video verrà ammazzato. Tevez ha veramente... Credo che fosse un altro... Cacchio. Dopo questo video proprio... Mi aspetto i fanatici del Barcellona che mi vengono proprio... Veramente... 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 Michele ha vinto... Ha vinto la Champions... Cioè... Ha tipo segnato un gol al Chelsea. Vabbò. Vabbò. Lewandowski mi era anche venuto in mente. Poi mi son distratto. Cacchio. Di nuovo colpisce... Allora. Chi mi mancava... Vabbò. Questi... Questi quattro... Forse solo... Varanna era l'unico che mi ricordavo. Che dire che ho entrato non mi fa po'. Signori. Dopo questo video verrò ammazzato. Cioè. In realtà non verrò ammazzato. Semplicemente. Diciamo. Sono rimasto in imbarazzo dopo questo video. Ok. Spero che potete... Spero che non facciate più... Spero che io non faccia queste figure di caca. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.